Buonasera cari telespettatori, sono sempre Benedetta Venditti e oggi siamo in compagnia del signor Costantino. Bene Costantino, allora ci sarà questa rappresentazione teatrale su Celestino V. Perché è tanto importante intanto per il territorio? Intanto non è una rappresentazione teatrale su Celestino V, ma è una rappresentazione napoletana presentata da una compagnia importante partenopea ed è inserita in un contesto dove in questo premio, in questo incontro che faremo qui a Piedimondo il 18, ci saranno anche delle premiazioni di personalità importanti e quindi Celestino V è importante per il territorio perché secondo la bolla di canonizzazione, cioè il certificato di nascita dell'epoca, si dà il caso che è stata scritta in quanto Celestino V, Pietro degli Angeleri, è diventato santo perché se non fosse diventato santo non sarebbe stata scritta questa bolla di canonizzazione e che tutt'oggi si scrivono quando uno diventa santo a seguito di un processo canonico importante scritta dal notaio apostolico e controfirmata dal Papa Clemente V dell'epoca che attestava che Celestino V è nato in un gastrum sangue di Angeli, in terra di Noe, che sarebbe la terra di lavoro, nel reame di Napoli. Quindi abbiamo individuato, più che io, lo storico Domenico Caiazza, ha individuato il castello di Ravecanina che si erge e divide i comuni di Sant'Angelo e Raviscanina come il luogo dove Celestino V sarebbe nato. Perfetto, diamo anche ai nostri telespettatori una data magari per poter assistere. La data del convegno? La data del premio è quella del 18 sabato prossimo di questo mese presso l'auditorium San Domenico di Piedimonte dove ci saranno delle premiazioni importanti tra cui alla memoria di Enrico Caruso che è stato già figlio di genitori piedimondesi e concepito addirittura a Piedimonte perché il papà si è trasferito nel mese di ottobre a Napoli per un lavoro e quindi sarebbe nato dopo 4-5 mesi dal trasferimento di Enrico Caruso è di Jacob Egg, quella persona svizzera, cioè che proprio in questa piazza costruì il primo codonificio d'Italia dando lavoro a mille persone di cui molti detenuti e molti provenienti da ospizi, da case di riposo quindi una personalità migliore di questa non poteva esserci. Va benissimo, un appuntamento a cui proprio non si può mancare allora Grazie mille da Benedetta Venditti per casartasera.it